c'è la possibilità in questa nuova sede in quest'accademia di fare anche dei corsi di formazione che sono importantissimi e mi permetto di dire forse a differenza magari di tante aziende del settore che chiaramente puntano poi giustamente alla vendita del loro prodotto forse per quanto riguarda la formazione boss è anche un po più generica io lo trovo anche più stimolante diciamo che è stata data molta attenzione a questo particolare proprio perché la boss non vende prodotti non fa questo tipo di loro perché è estremamente pura e mirata al suo business la vera idea diciamo di gestione di conseguenza negli anni e siamo sempre riusciti fortunatamente a rimanere distaccati e diventare magari riferimento per le aziende ma non cadendo nell'ovvio che alle volte in questo momento vedo boss come un po lo psicoterapeuta che ti accompagna come il consulente di immagine che ti accompagna nel percorso non ti dice mai quello che devi fare ma ti spiega come dovresti